Katia Non andiamo a İstanbul pura paccia io ho guardato non mi capito non lo capito non lo capito il capito che hanno fatto e io e io non lo capito che sono che sono se si pensano che siamo a sordi di essere un giusto, quindi siamo a sordi di essere un giusto. E' vero. E' vero che il giusto che non si può essere un giusto per il giusto che non si può essere un giusto. E' un'altra cosa, ma come se ti ha capito, ma che ci sono un giusto? Quando erano il giusto, aveva un giusto con il giusto. se non lo conosce, non lo conoscevamo così. Quando lui ha lasciato questa cosa, mi ha lasciato anche a me. Cosa? Cosa? Mi ha detto, se non lo conoscevamo così, Il nostro corso gratuito è www.mesmerism.info 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 Il fatto che mi ha detto che mi ha detto E' un altro che non ha detto E se tu non ha detto Che tu non ha detto Non pensi così Ma cosa è successo Tu hai seguito Tu hai seguito Tu hai figuito Tu hai figuito Il nostro corso gratuito www.mesmerism.info 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 grazie a tutti 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 grazie a tutti